Nel primo trimestre del 2020 abbiamo superato le 1500 copie di terapia assoluta singola principio e pratica, che è andato in ristampa dopo appena due anni. È stato un risultato notevole considerando che questo genere di libri, quando vanno bene, vendono tra le 300 e le 400, 500 al massimo copie all'anno. In pratica abbiamo più che raddoppiato il risultato senza che il nostro testo venisse adottato in un corso universitario e senza considerare i download della versione digitale. Approfitta allora degli altri eventi per trattare un tema che spesso è stato fonte di riflessioni con molti colleghi. Conviene o non conviene pubblicare con un editore? Siamo in un momento storico in cui sempre più autori pubblicano per conto proprio e con i colleghi ci siamo un pochino domandati sui vantaggi e gli svantaggi del self-publishing. Come tutto è sicuramente vantaggioso per certi termini e svantaggioso per altri. Sicuramente in termini di guadagno non c'è paragone. Un editore ti dà una percentuale di guadagno tra il 4 e il 10% come media, mentre nel self-publishing puoi guadagnare sicuramente molto di più in percentuale. Qui c'è però da fare una considerazione particolare, in percentuale. Se guadagni il 30% anziché il 5% ma vendi 10 copie anziché 1000 copie... matematica. Inoltre la gestione è completamente tua nel self-publishing. Per esempio nel nostro caso il titolo è stato rivisto dall'editore, manuale di terapia sulla singola era quello originale, e anche la copertina è stata una scelta dell'editore. Anche questo però è una cosa interessante perché l'editore ci ha proprio spiegato direttamente che i manuali, testi che proprio si chiamano manuale di, vendono meno di altri testi. Oppure, visto che all'interno ci sono più autori, noi avremmo voluto mettere a cura di Flavio Cannistra e Federico Piccirilli. Ma l'editore ci ha spiegato che le curatele, quindi testi con scritto a cura di, vendono meno dei libri dove c'è solo il nome degli autori, senza scritto a cura di. E peraltro ci ha precisato che in realtà una curatela, dopo tutto, ha dei capitoli disgiunti l'uno dall'altro, mentre il nostro libro ha un filo conduttore molto netto, progressivo, che di capitolo in capitolo è veramente ben identificabile. Insomma, tutte queste cose non le avremmo imparate né sapute senza la mediazione di un editore. Però tornando ai vantaggi del self-publishing, c'è anche da dire che nella nuova edizione noi abbiamo potuto fare la correzione di qualche refuso e aggiungere un piccolo paragrafetto, niente di più. Sarebbe stato interessante aggiornare il libro con le scoperte fatte da noi degli ultimi due anni, anche se c'è da dire che non sarebbero stati dei reali benefici per il lettore, ma soltanto la soddisfazione di un desiderio di aggiornamento nostro. Però l'editore ha preferito, in una questione di strategia, lasciare il libro così com'è, semplicemente fare le prime correzioni dette precedentemente. Anche i tempi sono importanti. Un editore può avere dei tempi anche enormi, da quando tu gli presenti, gli invii il dati dello scritto, a quando pubblica il libro e finisce nelle librerie, che possono andare da pochi mesi, nei casi più rapidi, anche più di due anni. E invece col self-publishing, scritto il libro, in pochissimo tempo, anche giorni, puoi metterlo direttamente online e già iniziare a venderlo. Insomma, soldi, tempo e completa libertà di gestione sono sicuramente i vantaggi principali del self-publishing. Ma pubblicare con un editore, soprattutto se si tratta di materiale scientifico, ha il suo senso, ha i suoi vantaggi. Ti dico, la mia esperienza è basata su tre libri pubblicati con tre editori diversi ad oggi, nella metà 2020, e i capitoli pubblicati con anche altri editori. Innanzitutto, l'editore fa l'editing. Io sono ossessivo sull'uso dell'italiano e ogni volta che scrivo un libro o un articolo, lo faccio leggere a mia madre. Sì, mia madre è una divoratrice di classici della lingua italiana, non solo classici, anche di grandi autori, come qualcuno del calibro di Umberto Eco. Quindi ogni volta che sottopongo un testo a lei so che mi farà un editing severo e impeccabile. Oltre lo faccio leggere anche ad altre persone, perché più occhi lo guardano meglio è. Eppure la precisione che può raggiungere un editor professionista è irraggiungibile. Soprattutto se si tratta di un testo scientifico che necessita di una precisione autorevole, il lavoro che fa l'editor riesce a arrivare non solo a correggere errori e refusi, ma anche a verificare costrutti, teorie, termini, a vedere se la bibliografia ti punti le parentesi e le virgole al punto giusto. Se vuoi scrivere un saggio impeccabile non puoi prescindere da questo lavoro. Questo aspetto si aggiunge anche a un altro, l'editore si fa da garante per il lettore. Ci sono tanti validi editori in Italia che pubblicano testi di psicologia e psicoterapia. E quando compri da uno di loro sai che tipo di libro ti puoi aspettare. E se sei un autore questo impatta anche su di te a livello di brand, per esempio. Se pubblichi con un editore che ha dei buoni titoli è molto più probabile che anche il tuo titolo venga considerato buono, o comunque che il lettore pensi che valga la pena leggerlo anche se non ti conosce bene. Certo, non è scontato che il tuo sarà un buon titolo, però non lo sarebbe neanche se fosse pubblicato in self-publishing. In particolare per i saggi, se l'editore ha una o più collane dedicate a quell'ambito è perché sa fare una valutazione di quell'ambito, dei titoli di quell'ambito, del lavoro che è necessario per pubblicare qualcosa di valido in quell'ambito. Personalmente, per quanto riguarda la psicologia e la psicoterapia, non capita quasi mai che io legga dei libri autopubblicati. Se nessun editore ha voluto investire in quel libro, o se l'autore stesso non ha voluto sottoporsi all'inevitabile processo di giudizi, di revisioni, di rifiuti con cui ci si imbatte, allora io stesso mi domando se valga la pena investire il mio tempo nella lettura di quel testo. Naturalmente non voglio generalizzare, perché ci sono anche delle fortunate eccezioni, anche nell'ambito della psicologia. Il libro pubblicato con un editore poi può raggiungere più persone. Finire in libreria non è automatico con un editore, ma è molto difficile con il self-publishing. Noi spesso vediamo anche autori, grandi autori, che hanno fatto self-publishing, che finiscono in libreria. Però lì dietro c'è, ragazzi, una strategia di promozione, di marketing, che è fondamentale. Che se non la conosci, o se non sei in grado di portarla a quel livello, farà sì che le vendite del tuo libro non saranno tante, e che le librerie per questa ragione probabilmente non ti vorranno. Considera sempre che la libreria ha uno spazio definito, finito anzi, in metri quadri, che tenderà a mettere al suo interno libri che sa che vendono più di altri. Quindi editori che sa che probabilmente vendono più di altri. C'è da dire che buona parte degli acquisti di libri avviene online oggi, ma le librerie sono ancora un canale importante perché frequentato e strategico. Anche se l'autore oggi è una parte determinante nella vendita, diciamo, e nella promozione del libro, stare sugli scaffali ha un effetto diverso sul lettore. Proprio perché chiunque può stare su Amazon, ma non tutti riescono a stare in libreria. Ecco qui, veramente i miei due centesimi sull'argomento, non voglio neanche farla troppo lunga. Dimmi un po' cosa ne pensi, perché è una riflessione che mi interessa molto. Puoi scrivere i tuoi commenti qui sotto, oppure se sei uno psicologo puoi continuare la discussione sul gruppo Facebook Terapie Brevi. Oppure, magari chi lo sa, prima o poi ne parleremo di persona incontrandoci in libreria. Grazie.